Buonasera a tutti e bentornati Nei nostri studi questa sera affrontiamo la tematica delle dipendenze Un tema molto attuale anche perché legato e non solo a fatti di cronaca Che hanno riguardato il nostro territorio e che ci hanno posto così una domanda Quello della dipendenza è un problema serio, è un'emergenza Oppure è anche una sensazione legata ad alcuni fatti che poi andremo a vedere Soprattutto quali sono i messaggi che possiamo dare questa sera Sia a favore delle persone, dei ragazzi, dei familiari E capire anche quali sono le azioni in campo per combattere questa problematica Ne parleremo di tutto questo con i nostri ospiti Che presento Luca Capurro, vicequestore della Polizia di Stato di Chiamari Buonasera Don Federico Picchetto, buonasera, bentornato Fulvio Di Sigismondo, educatore professionale del villaggio del ragazzo Buonasera Monica Arcellaschi che è capo di Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della SRE4 Buonasera E Andrea Sacco, psicologo incaricato della prevenzione, sempre per il CERT Buonasera Allora dicevamo, fatti di cronaca legati alle dipendenze in particolar modo Questo diciamo è un po' il fulcro da cui vogliamo partire Da arresti e denunce legati a episodi che hanno a che fare con le sostanze stupefacenti Allora volevo chiedere subito al dottor Capurro Quella che stiamo affrontando in questo momento sul territorio Perché se ne sta parlando in queste settimane È un'emergenza, è un livello di attenzione oppure una sensazione? Ecco, se ci vuole spiegare questo Sì, i numeri sono chiari C'è negli ultimi due anni I risultati in tema di arresti e denunce a piede libero Per fatti connessi alla droga Sono aumentati nel tiguglio Intendendo il comprensorio con tutte le sue introterre Quindi il fenomeno c'è, è reale, ha una sua gravità Non è sovrastimato Ecco, forse era più nascosto e silente in passato Direi che adesso sta venendo fuori nella sua concretezza E nella sua esatta fenomenologia sul territorio che aveva reso questa situazione Giro la stessa domanda alla dottoressa Arcellaschi Dal vostro osservatorio come le sembra la situazione attuale del territorio? Allora, la situazione attuale nel territorio, diciamo così, è sostanzialmente stabile Come del resto d'Italia È vero che è diminuita l'età in cui i ragazzi si rivolgono ai nostri servizi Se prima era difficile che i minorenni accedessero al CERT Adesso abbiamo avuto anche 14-15 anni Addirittura abbiamo avuto anche richieste per infra-14 anni Per verifica esami delle urine Per vedere se i ragazzi avessero fatto uso di sostanze Abbiamo dovuto dirottarli sulla pediatria Cosa che ovviamente prima non succedeva Però la prevenzione va sempre avanti con un buon ritmo, con tanti progetti La prevenzione va sempre avanti con un buon ritmo e con tanti progetti Faccia conto che nel nostro servizio da circa 20 anni C'è un gruppo che si occupa appositamente di prevenzione Che è coordinato dalla dottoressa Laura Poggi E di cui fa parte il dottore Andrea Sacco Ma anche il dottor Fulvio di Sigismondo Che collabora da tanto tempo in questi tipi di progettualità Ecco, con Andrea Sacco Lei che ha anche il contatto con i ragazzi nelle scuole Nell'ambito del tema dipendenze Che tipo di concezione c'è? C'è confusione soprattutto sulle droghe? Cosa emerge? C'è una certa confusione Forse anche perché siamo in un periodo storico In cui in realtà con le nuove tecnologie Si possono reperire una moltitudine di informazioni Però poi spesso e volentieri sono informazioni un po' forvianti Magari tante volte i ragazzi vanno a ricercare un po' già Quello che vorrebbero sentirsi dire da questo punto di vista Nell'insieme abbiamo la fortuna Ma che alcuni hanno già una buona dose di criticità E sono quelli con cui poi è più semplice lavorare in ottica preventiva Andiamo subito a vedere alcune interviste Che abbiamo realizzato in città Per cercare di capire appunto Qual è la sensazione tra le persone Naturalmente è un tema molto delicato Ma vediamo appunto che cosa abbiamo raccolto Se le parlo di dipendenza A lei cosa viene in mente immediatamente? Dipendenza può essere all'alcol Può essere al fumo Può essere al gioco Sono cose molto, tutte pericolose Veramente Secondo lei quali sono le sostanze che danno più dipendenza? Beh, tutte Tutte Non ci sono sostanze che non danno dipendenza Le sostanze tossiche danno tutte dipendenza Purtroppo alcune è più difficile poi contrastare la dipendenza Altre un po' meno Io da ex fumatore posso dire che anche il fumo è noioso Da allontanare diciamo Secondo lei qual è la sostanza che crea più dipendenza? Oddio Non lo so Da quello che si sente alla televisione Tanti tipi di droghe Ora girano tra i giovani che danno dipendenza Poi volendo anche le sigarette L'alcol Ecco Benzodiazepine Sa cosa sono? Sono quelle cose, quelle sostanze che servono alle persone per prendere il sonno alla sera Credo che se ne faccia un largo uso Perché l'ansia è un altro malanno abbastanza diffuso Parlando di droghe Secondo lei c'è differenza tra droghe leggere e droghe pesanti? Beh sì, innanzitutto sì Se si parla di uno spinello piuttosto che di una della cocaina o eroina Sì, senz'altro Però come ripeto le dipendenze sono tutte uguali Anche dalle cose diciamo lecite Che in abuso diventano illecite purtroppo Come per esempio nel caso del sabato sera Quando i carabinieri sequestrano parecchie patenti per l'abuso di alcol Penso che l'alcol è una cosa molto preoccupante E le droghe Soprattutto per i giovani Perché i papà devono tutelare bene i figli E sapere la vita che fanno Così i figli non fanno quelle cose Di entrare nella droga Essere molto amici I papà e la mamma devono essere molto amici con i figli E sapere cosa fanno L'uomo secondo me ha bisogno di attaccarsi a qualcosa In questo momento di confusione mondiale, totale Ragione di più per attaccarsi a queste cose qua Può servire l'educazione scolastica Può servire l'educazione in famiglia Ci sono vari fattori che possono influire Influire Dipende da un ragazzo, una ragazza cosa vuole dalla sua vita E purtroppo adesso hanno pochi punti di riferimento Spero che la divulgazione delle informazioni Faccia sì che anche i giovani possano astenersi da certi tipi di comportamenti Proibirle non serve assolutamente a niente Anzi secondo me il proibito Dà un pizzico in più di adrenalina Che ti spinge ad usarle Quindi non credo che sia quello L'importante è disincentivare l'inizio Perché è come quello che fuma all'inizio da ragazzino Per fare il figo fuma Poi dopo non riesce più a smettere Per la droga credo che siano altri meccanismi Magari quando si è insieme in discoteca Oppure perché lo fa l'amico Sono tanti i meccanismi E poi la ricetta Non lo so, non ce l'ho Magari anche un aiuto dallo Stato Sapere che dia proprio Non so Tipo dia proprio questa fa male Però tipo ad esempio le sigarette C'è scritto il fumocido Però non è che le tolgono dal commercio Allora abbiamo ascoltato queste interviste di Giacomo Rizzi Le commentiamo in studio Cominciando dalla dottoressa Arcellaschi Che cosa ne pensa di questo che è stato detto Che cosa vede insomma tra le persone Allora innanzitutto i discorsi che sono stati fatti Sono di estremo buonsenso Volevo sottolineare che in realtà le dipendenze Possono riguardare sia sostanze Sia anche non sostanze Nel senso il lavoro può diventare una dipendenza L'esercizio fisico può diventare la dipendenza Il cibo può diventare una dipendenza Il punto cruciale I social possono diventare Le dipendenze tecnologiche sono una dipendenza Il punto cruciale è questo bisogno Che in inglese si chiama craving Bisogno inarrestabile di utilizzare Quella cosa per poter stare bene nella vita Quindi diciamo Le persone che sono state intervistate Questo punto l'hanno centrato abbastanza bene Diciamo che quindi Dal punto di vista Del fatto di Ci sono cose che fanno peggio Cose che fanno meglio Sicuramente esistono sostanze Come l'eroina Che danno un'immediata dipendenza fisica Che quindi In qualche modo Che segna il fisico In modo talmente pesante Che è facile che la dipendenza Si instauri molto velocemente Mentre ci sono altri tipi di sostanze Come la cannabis Che hanno un potenziale diciamo Fisico meno importante Che sono magari più subdole Ci sono poi sostanze accettate socialmente Perché l'alcol per esempio Rappresenta Che si vede Insomma Rappresenta una sostanza accettata legalmente Facciamo conto che Nelle discoteche Sto pensando al covo Al sollevante Ci sono ragazzini che arrivano Dove Diciamo la sostanza alcolica è controllata I ragazzini arrivano già Come dire Bevuti No? Dentro Perché comunque Sono tutte sostanze Che comunque alla base Fanno stare bene Almeno per un certo periodo di tempo Perché altrimenti Le persone non le utilizzerebbero E questo mi porta a dire Che anche i farmaci Possono Alcuni farmaci Hanno un grosso potenziale D'abuso Sto pensando per esempio In America Dove c'è tutta questa Enorme Pericolosità Degli antidolorifici Poi tra l'altro Ne parleremo Ma i ragazzi Queste distinzioni Queste differenze Le conoscono Di Sigismondo Lei che idea Mi associo a quanto è stato detto prima Dal collega Sacco C'è un po' A volte un fai da te Per quanto concerne anche La ricerca Di informazioni Relative Alle sostanze Che Non è chiarissimo Se generi Effettiva Consapevolezza Confusione O a volte anche Una propensione Più rischiosa Magari a sperimentare In maniera un po' disordinata L'utilizzo anche Di sostanze Quindi C'è un tema Interessante Su questo Nel senso che Non è Assolutamente scontato Che la possibilità Di accedere A tante informazioni Di fatto poi Generi Un'informazione corretta Una consapevolezza Corretta E di cui La necessità Quindi Di una presenza Adulta Che sappia Anche Diciamo Aiutare E quindi Guidare Nella conoscenza Di queste Di queste problematiche Noi parliamo di ragazzi In questo momento Perché Probabilmente anche Il dato di cronaca Che colpisce di più Ma c'è tutto anche Un mondo adulto Che probabilmente È molto interessato A questo aspetto Che dovrebbe dare L'esempio Come le diceva Però in alcuni casi Non è così Sì io penso Che questi Su questo elemento qui Quello che si diceva Prima anche a dottoressa Arcellaschi Io credo che Dal mondo adulto Provengano Dei messaggi Molto contraddittori Perché Sovente Il mondo adulto Si pronuncia Con grande facilità Sul mondo giovanile Attribuendo ai giovani Abitudini Consuetudini E quindi alimentando Anche dei modelli Di rappresentazione Dei giovani Che in realtà Sono appartenenti A una minoranza Dalla popolazione Giovanile Per fortuna Perché come Si può banalmente dire Fa molto più rumore L'albero che cade Che la foresta che cresce Diciamo E' vero che penso Che il tema Dell'uso Dell'abuso Ad esempio Di psicofarmaci Tra la popolazione adulta Sia un tema Magari del quale Si discute meno Perché anche quello Fa meno rumore Però penso Che sia un tema Ampiamente diffuso Che comunque Veicola un messaggio Comunque Ecco Don Federico Picchetto Insegna nelle scuole Quindi ha a che fare Con i ragazzi Tutti i giorni Ecco Loro cosa dicono Di questo Di questo ambiente Della droga Di quello che gira Insomma Come giustificano Anche questo aspetto Ma diciamo che i ragazzi Sono divisi sostanzialmente In due grandi aree Dove poi ci sono Delle zone di confini Interessanti Un'area Molto critica Anche molto Come dire Attenta A promuovere Uno stile di vita sano E Come dire Molto precisa Anche nella critica Versi i propri compagni Esiste ancora quest'area E volevo Rassicurare Che esistono ancora I ragazzi così E poi c'è un'area Invece dove Evidentemente Non è percepita La gravità Della questione No? Non è percepita La gravità Della questione E Non c'è Un elemento Quindi di consapevolezza Tale Da Come dire Da fare Da coscienza critica C'è Una conoscenza Una conoscenza Condivido appieno Quello che è stato detto Fino adesso Fai da te E in forza di questa conoscenza Fai da te Si procede un po' Per binari ideologici Quindi come dire Ho trovato su internet Che tutto quello che dicono Sulle droghe Non è affatto vero Fanno molto bene Infatti Cominciano a tenere fuori Esempi Incredibili Di storie Dove le droghe Hanno fatto benissimo E quindi siamo Sostanzialmente stupidi Nella misura In cui Vietiamo O in qualche modo Sconsigliamo Un'assunzione Di questo tipo Di sostanze Ma dove c'è una spiegazione Ascoltano Oppure tirano dritto Come dire Loro sanno già tante cose Quindi sono già tanti Bombardati Di informazioni Noi Ci sono interventi Presso le scuole strutturate A volte quando C'è il bisogno Proprio che c'è un caso C'è un'emergenza Si pone proprio Tutto un percorso Però Come dire La percezione Che le parole L'efficacia Della parola Stia perdendo Tantissimo Cioè noi oggi Siamo in un momento In cui Abbiamo così tante parole Che non abbiamo più Il peso specifico Delle parole Quindi non si sa bene Quali dar peso Quali no Certo Allora dopo aver spiegato Questi aspetti Vorrei scendere proprio Nel dettaglio Di alcuni dati Incominciando con Quelli proprio Della Polizia di Stato Del commissariato di Chiavere Adesso vedremo anche Delle slide Dottor Capurro Dati proprio Di quest'anno Ecco se ce ne vuol parlare Vuol descrivere così Anche proprio nel concreto Ecco quello di cui stiamo parlando Sì I dati Dell'ultimo anno Che ho portato Sono Credo rilevanti Per la provincia Di Genova Se parliamo Di 30 persone Arrestate Per spaccio Di più di 20 Denunciati Parliamo di più Di 60 persone Segnalate Quello che noi chiamiamo Alla prefettura Per uso personale Di sostanze Stupefacenti Sono numeri Elevati Quindi parliamo Di una realtà Di cui dobbiamo Prendere conoscenza Che anche Nel nostro territorio Del Tiguglio C'è un fenomeno Non peggiore Ma comunque diffuso Qui vediamo anche Quattro minori indagati Ecco perché poi Oltre Alle giuste Riflessioni Che sono state fatte Dagli altri Partecipanti C'è il fenomeno Dell'uso Ma c'è poi anche Il fenomeno Del passaggio Allo spaccio Di autofinanziamento Cioè vediamo Spesso Nelle giovani Leve La cui età Scende Sempre Maggiormente Si avvicina Con l'età Della scuola superiore Anche dei primi anni Vediamo L'uso Lo spaccio Per autofinanziarmi E lì Incominciamo Ad entrare In un mondo Che esula Dalla Dalla sanzione Amministrativa Mentre nel mondo Palese Dell'illecito Del penale Quindi ci sono Segnalazioni Al Tribunale Preminori Per spaccio Dovute Spesso Troviamo anche Minori Che si prestano E sono utilizzati A fare da scambio Una volta La mia generazione Li chiamavo I cavalli Cioè quelli Che facevano Il passaggio Più pericoloso E più Penalizzante Nella filiera Nella parte finale Della filiera Dello spaccio Questo è Un aspetto Che desta Nelle famiglie Proprio in questi giorni Ne stiamo sentendo A sprombattuto Tanti familiari Di ragazzi minori E vedo Molta Molta fragilità Nelle famiglie Del nostro comprensore Vedo anche Dei segnali positivi Cioè vedo anche Una cura Ancora presente Nella nostra società Nelle nostre famiglie Qua Del comprensore Che in altre A realtà dove ho lavorato Non trovo più Quindi dobbiamo anche Guardare gli aspetti positivi Che c'è ancora Una tenuta sociale Delle nostre famiglie E della nostra Torniamo anche Sulla famiglie Sull'attenzione Che possono avere I genitori Gli adulti Sui ragazzi Ecco Possiamo Abbiamo visto questi dati Vedere anche Quelli aggiornati Del CERT Della nostra Asla E commentarli Con la dott. Sercellaschi Adesso vediamo la slide Eccolo Ecco Allora Diciamo che La cosa importante Del CERT È che Come notiamo Che a fronte Di circa 700 pazienti Per droghe Stiamo parlando Di per droghe Come possiamo vedere La gran parte Della Come dire La gran figura La fanno gli adulti Non i ragazzi Nel senso che I pazienti in carico Sono la maggior parte Sono di fasce adulte E questo già ci dà In qualche modo Come dire Rispecchia un po' Quello che ha detto Fulvio di Sigismondo Nel senso Sono un po' gli adulti Che trainano Questi problemi Ai minori Dietro E comunque I ragazzi più giovani Queste sono le fasce di età Per quanto riguarda le droghe Tra i 15 e i 19 E i 20 e i 24 Che è la fascia adolescenziale E vediamo che Per quanto riguarda Le droghe Anche qui La maggior parte Sono La fascia di età È rappresentata dai maschi Perché le femmine Utilizzano meno sostanze Per vari ordini motivi Perché Sono meno indotte Alla sperimentazione Perché hanno più fattori Protettivi Rispetto ai maschi Che presentano Una fragilità Dovuta a una certa Impulsività Al fatto che il cervello Del maschio Come dire Matura dopo Dal punto di vista Biologico Ecco Se poi Confrontiamo i dati Delle droghe Con quelli dell'alcol Notiamo che in realtà Ragazzi che vengono Ai nostri servizi Non ce ne sono In età giovanile Perché Perché Tutti i ragazzi Per esempio Vengono portati In coma Al sabato sera Ecco qui possiamo vedere I dati per alcol Vediamo che i ragazzi Giovani sono estremamente pochi Perché questo Perché innanzitutto L'alcol è una sostanza legale Quindi I ragazzi dovrebbero arrivare Da soli Sostanzialmente E non arrivano Perché Non considerano l'alcol Una sostanza Che possa dare Problemi E mentre Per quanto riguarda Le droghe Noi abbiamo in via Anche cosiddetti obbligati Da parte della prefettura Dalle forze dell'ordine Che in qualche modo È vero che fungono Da organo repressivo Ma aiutano Nell'intercettare Una problematica All'inizio Quella che poi Viene chiamata Diagnosi precoce Un altro problema Che noi abbiamo Che rientra Nelle dipendenze Marginalmente È la dipendenza Da cibo Noi abbiamo grosse fasce L'età giovanile Molto rappresentata Cioè deve essere Un'altra diapositiva Per quanto riguarda La fascia giovanile Per Nei disturbi Il comportamento alimentare Dove vediamo Che le ragazze Soprattutto È una problematica Squisitamente femminile Anche se si vedono Ultimamente anche maschi Vediamo che Le ragazze giovani Sono rappresentate Addirittura Noi non abbiamo In carico Fra 14 anni Come ho detto prima Ma per esempio Il consultorio Vede un sacco Di disturbi alimentari Di dipendenza Da cibo Piuttosto che Il rifiuto dello stesso Compilando queste griglie Confrontandole Agli anni scorsi Come le sembra Questo trend Allora Sostanzialmente I trend negli ultimi anni Sono sostanzialmente Stabili Per questo che dicevo Come fenomeno in sé Dal punto di vista terapeutico Non abbiamo Notato Un incremento Dei numeri Però Questa è un po' La punta dell'iceberg Soprattutto per quanto riguarda Le patologie alcol Correlate Noi vediamo Appunto Esclusivamente I ragazzini Che Vengono portati Plurime volte In cometilico Al pronto soccorso Se no Non è difficile Che arrivino Anche perché Come diceva uno dei miei colleghi prima Il CERT Ha una certa connotazione Cioè Venire al CERT Come posso dire Anche i genitori Non vengono Non portano Se non sono proprio costretti I ragazzi Ai CERT Tanto è vero Che abbiamo pensato Di dividere la sede In due Quindi di In qualche modo Favorire L'età giovanile Come dire L'approccio Del nostro servizio Nell'età giovanile In un altro posto Che sia un po' Meno connotato Dal punto di vista Del CERT Tornando ai dati Invece legati Proprio alla cronaca Se guardiamo Gli ultimi Due mesi Di episodi Che anche noi Come emittente Abbiamo dato come notizia Lo scorso 3 dicembre Ad esempio C'è stato un arresto Quattro denunce Sei minori segnalati Un caso che ha riguardato Il Luna Park Di Lavagna Un caso proprio Della polizia Il 18 novembre Abbiamo dato notizia Di sei arresti A Sestri Levante L'operazione Volpi dei Balcani In questo caso Erano intervenuti i carabinieri Il 6 novembre Di nuovo due arresti E un minore denunciato Il 25 ottobre Due arresti Un arresto Il 18 ottobre Al porto di Lavagna Il 14 di ottobre Due giovani denunciati Per coltivazione Questo in una zona boschiva Di Casarza Ligore Questa è ancora Un'operazione di carabinieri Invece la polizia Il 23 settembre Due arresti Ancora nella zona Di Sestri Levante Per quanto riguarda Invece Le sostanze Che vengono trovate E sequestrate Ecco Possiamo dire invece Come va in questo senso Anche in questo possiamo vedere la slide Sì Viene confermata anche sul territorio del Tiguglio Un trend nazionale Che vede i derivati della cannabis Marijuana e hashish Ai primi posti nell'uso Nell'uso e quindi nel conseguente mercato illegale Che ne consegue Noi ne abbiamo sequestrati più di 9 chili Sappiamo anche a livello nazionale Anche qua A livello locale Che tiene ad esempio l'eroina Era una droga che sembrava in parte Destinata al declino L'abbassamento dei prezzi La paura del buco Dell'infezione Di queste cose Che hanno tenuto un po' lontano Però creano ancora una nicchia presente E forte nell'uso E come mai secondo lei c'è questo ritorno? C'è un ritorno in parte dovuto all'uso Perché l'eroina viene non solo iniettata Ma viene anche fumata E quindi sembra un modo più pulito E meno sporco di farsi di eroina C'è una generazione che continua E non parliamo fortunatamente di ragazzi A fare uso di eroina E persiste anche nel nostro territorio Più il fenomeno preoccupante Delle nuove droghe O delle smart drugs È stato fra l'altro Proprio trovato da noi Un quantitativo preoccupante Per il territorio Di sei eti di chetamina Che è un potente anestetico Ma che ha effetti allucinogeni Particolarmente grave È stato trovato dell'oppio Della cosiddetta ecstasy Quindi il panorama in me È completo A tutto tondo E ricollegandomi Il dato più inferiore forse è la cocaina Tra quelli La cocaina paradossalmente Effettivamente è un dato Che a mio avviso è sottostimato Dai nostri ritrovamenti Ma c'è E ricollegandomi anche A quello che diceva la dottoressa Abbiamo avuto anche alcuni casi Di sottrazione Di farmaci legali Dai figli e ai genitori Quindi parlando di benzodiazepine Abbiamo trovato anche casi Una volta era il bottiglino Di metadone che girava In modo Abbiamo avuto anche alcuni casi Di sottrazione Da parte dei figli Di medicinali Legittimamente detenuti Dai propri genitori Dai propri familiari Con situazioni anche molto Imbarazzate Vedendo questa slide Dottoressa Arcellaschi Un breve passaggio Sui danni però Che provocano queste sostanze Anche per far capire La differenza Tra per esempio Una dose di eroina Piuttosto che un'altra sostanza Allora Intanto confermo Che l'eroina Adesso viene fumata Dai ragazzi giovani E non viene Diciamo così Più bucata E sicuramente L'eroina è un farmaco Così come il metadone Che è un farmaco Quindi può essere misusato E sono sia la metadone Che l'eroina Possono dare insufficienza respiratoria E morte Nel momento in cui Se ne assume una quantità Diciamo così Appena superiore Alla soglia Diciamo Cosiddetta terapeutica Si passa immediatamente A un overdose Quindi Più un farmaco è potente Da questo punto di vista Più è facile Che si passi Dalla dose terapeutica Alla morte Quindi L'eroina è sicuramente Un farmaco molto pericoloso Perché a questo livello terapeutico Molto basso Altrettanto pericolosa È la cocaina Perché Noi vediamo spesso Al pronto soccorso Dei infarti da cocaina Alcuni ragazzi giovani Vengono portati Con attacchi cardiaci Perché Ha un grosso potenziale Diciamo Tossico E Per quanto riguarda La chetamina Noi per fortuna Nel nostro territorio Ce n'è poca Così come in Italia È una droga più Che circola nel nord Europa Però è un farmaco Che è devastante Perché Insomma Se vedi un ragazzo Per strada Che è Intossicato da chetamina Non lo vedi Non riesce neanche A stare in piedi Abbiamo visto Dei documentari E sono farmaci Che poi Appunto Non riuscire neanche A stare in piedi Per strada Significa essere preso Da un'auto Banalmente Da questo punto di vista La cannabis Ha un potenziale Tossico Meno importante Per lo meno Diciamo così Dal punto di vista Del rischio della vita Si è visto Che nei ragazzi giovani La cannabis Impedisce Quella che viene chiamata Pruning Che è la potatura Degli alberi Che significa Che nella normale Adolescenza A un certo punto Le sinapsi cerebrali Alcune sinapsi Vengono a cadere Vengono come dire Potate perché Non sono utilizzate I utilizzatori Di cannabis Spesso Non presentano Questo fenomeno Che è un fenomeno Fondamentale Per poter poi Acquisire delle abilità Come dire Cognitive Tipiche Dell'età adulta E quindi Questo è un grosso rischio Che provoca Diciamo La cannabis Nel cervello Dell'adolescente Così come L'attentizzazione Delle psicosi Noi abbiamo visto In pronto soccorso Ragazzi Con allucinazioni Deliri Che poi abbiamo dovuto Ricoverare In ambito psichiatrico Ecco prima Toccavate un tema Quello dei farmaci Che dicevate Forse se ne parla poco Allora Sentiamo questa intervista Ad un farmacista Del territorio Per cercare di capire Un po' com'è anche la situazione Cogliere anche qui Una riflessione Per poi parlarne in studio Sì C'è Proprio perché C'è Soprattutto negli ultimi anni Si è avuto Un aumento Dell'utilizzo Di prodotti Soprattutto per curare Ansia Depressione Problemi legati All'insorgenza Del sonno Sono comunque Problematiche molto comuni Per cui Solitamente Si utilizza Un approccio Anche medico Chimico E i prodotti Relativi a queste problematiche Sì Sono assolutamente Venduti molto Io ne vendo molti Negli anni che lei Sta svolgendo questo lavoro Ha visto una crescita Nell'utilizzo Di questi farmaci Sì Io sono farmacista Da circa 6 anni Un tempo relativamente breve Ma questi prodotti A base appunto Analgesica E antidolorifica Sì C'è avuto un aumento Abbastanza esponenziale Come può diventare una dipendenza? Tutte le dipendenze Hanno questa base di partenza Quindi un utilizzo continuativo Di una sostanza Di qualsiasi tipo di sostanza Che quindi poi Col passare del tempo Si parla anche comunque di anni Non un tempo breve Rischia poi di Creare questa dipendenza Quindi poi Costituisca un aumento Della capacità di azione Sì Si possono avere insorgenze Di queste dipendenze Tant'è vero che Si parte sempre E i medici prescrivono Obbligatoriamente Prodotti con dosaggi Molto molto bassi Poi nel caso Che si possono aumentare Ma solo ovviamente Sotto prescrizione medica Ecco appunto Eppure oggi Leggiamo tanti casi Di giovani Che provocano mix Di farmaci E alcol Eppure come le diceva Ci vuole la prescrizione Evidentemente ci sono modi Per bypassare questo sistema Leggendo i fatti di cronaca Episodi che sono comunque avvenuti Intossicazioni in particolare Perché i giovani magari Non riescono a dosare Perché non sanno ovviamente I dosaggi corretti Chimicamente giusti Di alcuni farmaci Temo che ci sia la possibilità Di procurarsi questi prodotti Diciamo senza comunque Ricetta medica O con magari familiari Che già riprendono O magari con medici Che riescono comunque A comunque prescriverli Perché magari Certe persone Richiedono prodotti Contro l'insonnia Contro l'ansia Tantissimi vengono qui a chiedere Ho ansia Sto male Mi sento agitato Mi sento agitata Mi sveglio durante la notte E quindi poi sta al medico Decidere se prescrivere o no Certi prodotti Hai mai visto ragazzi Venire proprio a chiederli Magari per un parente Sì Ho visto persone Che venivano a chiedere Per parenti Solitamente comunque Sempre con una ricetta Allegata Ma può capitare In altre parti del mondo Per esempio in America Invece vanno fuori Gli antidolorifici In questo caso Invece l'Italia come sta? Qua in questo caso In Italia Siamo abbastanza Comunque tranquillamente Abbastanza in un periodo Sicuro per ora Ma penso che lo sarà Anche comunque in seguito I medici fanno molta campagna Su questo E prescrivono gli antidolorifici Più potenti Quelli a base Di opiacei Solo nei casi Di punto di bisogno E molto spesso Sono addirittura Prescitti solo dall'ospedale I casi fentanyl Per esempio Nel nostro territorio Non si sentono? No 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 Assolutamente Il caso fentanyl Che in America Ha avuto appunto Anzi Un alto tasso di mortalità Da noi Non ci sono stati Assolutamente casi Per esempio Nel vostro caso lo avete Cioè si trova nel territorio? No 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 Nella mia farmacia In questo caso Il proprio Il fentanyl Non c'è Non ne abbiamo Non ne abbiamo forse Mai avuti Assolutamente un prodotto E un principio attivo Che non si trova da noi Allora intanto Un veloce commento A questa intervista Capur e Arcellaschi Inizio proprio Dottoressa Arcellaschi Su quest'ultima cosa Che ha sentito Allora Rispetto alla prescrizione Di antidolorifici Diciamo a scopo volutuario Per fortuna In Italia C'è un sistema Diciamo così Di distribuzione Molto molto ferie Ovvero ci sono i centri Di terapia per il dolore Di medicina per il dolore Che sono gestiti Da anestesisti E sono molto molto controllati Piuttosto che da oncologi Quindi per fortuna Non c'è stata Questa epidemia Per cui La responsabilità In primis Aspetta ai medici Che prescrivano Che prescrivevano Questi farmaci In modo improprio Ecco Quindi questo per fortuna Concordo Con il farmacista Non c'è Rispetto invece Alla potenzialità Di abuso dei farmaci Tipo benzodiazepine Sì Noi abbiamo pazienti Con o poliabuso Oppure Che vengono alzerte In questo caso Quindi sono in qualche modo Riconosciuti e trattati E poi abbiamo tutto Un sommerso di persone Che Anziane Soprattutto Che utilizzano Benzodiazepine In modo improprio Arrivando poi A sindrome confusionali Perché in generale Le benzodiazepine Nell'anziano Sono controindicate Perché peggiorano Le funzionalità cognitivi Dottor Capuro Sì Diceva bene Il farmacista Della larga diffusione Delle benzodiazepine Nella nostra famiglia La scarsa consapevolezza Che siano sostanze Pericolose Quindi Alcuni casi Che abbiamo trovato Di genitori Che tenevano Sul comodino Il flaconcino Come Fosse Un normale farmaco E di qui Un giro Di bottiglini O di sottrazione Di bottiglini Tra Altre persone Della famiglia Con effetti Poco Poco Simpatici Poi ovviamente Ci sono altre situazioni Completamente diverse Come L'uso del metadone O Il giro del metadone Ma sono situazioni Che ovviamente Riguardano Una popolazione Diversa Veniamo allora Ai fattori Che possono portare A questi fatti Iniziamo da Don Federico Picchetto Parlando di giovani Iniziamo dai ragazzi Che cosa porta a questo? Quali sono le dimensioni Che conduce un giovane Appunto A entrare in questo meccanismo Secondo te? Beh Intanto Non credo Che ci sia Una risposta generale Per tutti Nel senso Dobbiamo essere Attenti A non Appunto A non fare Gli esperti Di giovani Perché poi Alla fine Questo è molto rischioso Anche proprio Nel trattare il caso Con credito Specifico Io credo che Una signora Prima in intervista L'ha anche detto Noi strutturalmente Abbiamo bisogno Di dipendere Abbiamo bisogno Di legami Sani Che ci sostengono No? E che ci buttino Nella vita E quando Questi legami Sani Che ci sostengono Che ci buttano Nella vita Vengono meno Ecco che lì Bisogna trovare qualcosa Che colmi quel vuoto E quel vuoto Giustamente Diceva la dottoressa Prima Può essere il cibo Può essere Può essere la droga Può essere la sostanza Può essere qualunque cosa Perché C'è Alla base di tutto Un problema Cioè Il vuoto E la solitudine In cui tante volte I ragazzi Oggi si trovano E anche qui Siamo ad un altro paradosso Prima del paradosso Era eccesso Di tante parole Perdi il peso Delle parole Qua è un eccesso Di relazioni E perdi il peso Delle relazioni Per cui È come se Non fossi in relazione Con nessuno E questo Secondo me Crea una prateria Dove ci arriva Chiunque Aggiungiamo Il fatto che Gli adulti Caricano su questi ragazzi Una serie di attese E di Come dire Pretese Che sono imbarazzanti No? Che parte Da quando la mamma Ti dice Abbiamo fatto La verifica di latino E la signora Non ha fatto niente Il ragazzo Che ha fatto La verifica di latino E quando Ti dicono Che abbiamo Preso quattro Cioè Questo secondo me È un problema Dell'adulto Che quello Che fa il figlio Che fa il figlio È un voto A quello Che fanno loro E questo carica Di un'attesa Le performance Degli studenti Soprattutto Che poi In questa prateria Di vuoto Se il vuoto Non lo sentivi Adesso ci sei proprio dentro Adulti anche iperprotettivi Di Sigismondo Secondo lei Sì No ma Non è un caso Secondo me Che nei contributi Che abbiamo potuto ascoltare La parola ansia È comparsa In diverse situazioni E io pur non essendo Un esperto Diciamo Di farmaci E quant'altro Mi pare di poter dire Che il consumo Va anche verso Quelle sostanze Che sembrano avere Un potere lenitivo Di questo aspetto Cioè quindi sostanze Che rilassano Che fanno sentire meno Il peso Dell'ansia E della fatica Prestazionale Gansia Agitazione Depressione Su tutti un po' Aspetti della società Di oggi Questo è un tema interessante Perché oggi Sicuramente I modelli educativi Familiari Sono Parlando sempre in generale Come diceva prima Federico Picchetto Perché I modelli Genitoriali Sono modificati Oggi Prevale una cultura Del dialogo All'interno Diciamo Delle famiglie Il che non è assolutamente Negativo Però spesso Diciamo Possono esserci Delle derive Un po' troppo Iperprotettive Un po' Fusionali Come diceva prima Federico Cioè che fanno sì Che spesso Il fallimento Non sia Concepibile Allora Se non si accetta L'idea del fallimento E dell'elaborazione Del fallimento Si tende a diventare Preventive Rispetto al fallimento E questo non prepara La vita Ma genera una condizione Di fragilità permanente Che quando poi si scontra Con le attese Di una società Che oggi è sempre più Competitiva E performante Genera un senso Di inadeguatezza Lì secondo me Può esserci Un punto debole Un punto debole Che può trovare Conforto Diciamo In relazioni Significative Che possano supportare Se questo non avviene Io credo che lì Il tema della dipendenza Della sostanza Che può essere Illusoriamente Lo strumento Per superare Un disagio Di questo tipo Può prendere campo E creare un problema Però Don Federico Il ragazzo Nella droga Che cosa vede? Cioè un modo Per rivendicare Una presenza Un modo per seguire Magari altri ragazzi Seguire come dire Il branco Oppure Semplicemente Perché può essere Una cosa bella da fare? Ci sono Diverse Diverse Casi Diverse storie Sicuramente Oggi È anche un modo Per dire a volte Ci sono È uno dei modi Con cui uno dice Guardate che io esisto Guardate che io ci sono E questo Racconta molto Di quanto Tutta questa Società Dell'attenzione In realtà Non è una società Della relazione E questo È grave Secondo me Poi ci sono Dei casi In cui Come dire Fa mainstream C'è il gruppo Cioè Però quello Io direi Che è uno stereotipo Lo sento Quasi più del passato Io oggi Sento che La strada È quella Che diceva Fulvio Cioè Quella dell'ansia La strada È quella lì È una strada Dove In qualche modo C'è una problematica Individuale Personale Esistenziale Alla base Di un Di un comportamento Che in qualche modo Tende a Tente volte A Reiterare È quello Che si è visto In casa Se un ragazzo In casa È stato In qualche modo Guardato In maniera Abbandonica Tende ad abbandonare Se stesso Se un ragazzo In casa È stato Guardato O se i genitori In casa Si guardano In un certo modo La tendenza Come dire Fin da eschilo Uno tende Ad andare Dietro Al destino Che i genitori In qualche modo Gli assegnano E questo Secondo me Ci sono lì Delle dinamiche C'è un tessuto sociale Che si sta sfarinando Questo è il tema Ecco In tutto questo Il SERT Come interviene? Andrea Sacco Che progetti ci sono E che portate avanti? Beh Sì Il SERT Con l'equipe di prevenzione Che come diceva prima Dottor Isarcelaschi Ormai esiste da parecchio tempo Da vent'anni Ha progetti Che vanno avanti Anche da dieci Mi Sarei collegato Su questo Anche alle parole Che sono state Appena usate Anche da Don Picchietto Perché Tutti i progetti Su cui poi Ci muoviamo Sono Molto tarati Sul fatto che L'adolescenza Sembra un po' chiedere Un compito particolare Difficile All'adulto Cioè quello di essere presente Ma un po' alato Non troppo Sulla scena Insieme al ragazzo Che però è complesso È come costruire Una rete Attorno ai ragazzi Che sia supportiva Ma se le maglie Sono troppo strette Poi non c'è La possibilità Di emanciparsi Di trovare Una libertà Dall'ansia prestazionale Da questo genere Di situazioni Che ben veniva fuori adesso Se è troppo larga In quelle maglie Poi c'è il rischio Di cadere Ad esempio In fenomeni Come quello Delle dipendenze Questo è anche Un po' il motivo Per cui effettivamente Poi quando si passa All'azione Si punta molto Sulla relazione I progetti che noi Facciamo Sono tarati Su Questi sono I tre più continuativi Nel tempo I primi due Sono Diciamo Li prediligiamo All'interno delle scuole Elementari e medie Il primo Medie e il secondo La peer education Invece all'interno Dei licei E diciamo Che l'idea È proprio quella Di coinvolgere Tanto i ragazzi Soprattutto con la peer education Che è tarata Quindi anche su un target Di età un po' più elevato Quanto però anche Insegnanti E genitori Che sono un po' Quegli adulti Di riferimento Sul quale poi si gioca La relazione Che è il pezzo più importante Quindi cercate proprio Il coinvolgimento diretto Gli educatori E i ragazzi stessi Esatto Perché l'idea di fondo È che Questo è abbastanza Ormai opinione diffusa Anche l'equiprevenzione Partecipa ai tavoli Dell'agenzia sanitaria L'Alguria Ormai I vecchi Modelli Di prevenzione Fatto un po' Spot In cui c'è l'esperto Che arriva E fa Una giornata Di formazione Fa un po' Quell'effetto Di cui si parlava prima Che poi le parole Non bastano È importante Lavorare sulla relazione Con una continuità di tempo Un intervento di quel tipo Può lanciare un progetto Può sponsorizzarlo Però poi è necessario Lavorare Con una continuità E una profondità Che solo instaurando Una relazione è possibile Ci puoi fare un esempio Concreto del progetto Di Peer Education? Sì Dunque La Peer Education Ad oggi È un progetto Strutturato su tre livelli Per quello che riguarda noi Tra l'altro Viene svolto In collaborazione Anche con il collega Di Sigismondo Proprio Noi lo facciamo Dentro il centro Giovani di Chiavari E collaboriamo Con quattro istituti Al momento Che sono L'Istituto Nautico San Giorgio Per la sezione di Camogli L'Istituto Liceti Di Rapallo E qui su Chiavari L'Istituto Artistico Luzzati E il Liceo Delle Scienze Umane Diciamo Anche se in realtà Poi è più ampio E per noi L'idea è Strutturare Un piano di lavoro Addirittura Su tre livelli Quindi tre anni Con i ragazzi In cui i punti cardine Poi fondamentalmente Sono quattro Da un lato Abbiamo Imparare facendo Quindi Sperimentare Fare attivamente Non soltanto Imparare le nozioni Ma Attivarsi Trovare le proprie risorse Quelle che poi vengono chiamate Life skills Le abilità di vita Utilizzare il gruppo Come risorsa Si è parlato tanto Del gruppo Anche stasera Può essere Un grande potenziale Distruttivo Le cosiddette Cattive compagnie Ma anche Ovviamente Costruttivo L'idea della peer education È il pari Qualcuno di simile Per età Per contesto Poi A fianco a questo L'idea Di trovare Sempre di più Una responsabilizzazione Una capacità Di scegliere In base ai propri valori Che arrivano dalla famiglia Dalle istituzioni E quant'altro E lo sviluppo E il rafforzamento Di un pensiero critico Che da questo punto di vista Permetta al ragazzo Di tutelarsi Rispetto a certi comportamenti E a certi avvenimenti Della vita E dove c'è maggiore consapevolezza Funziona? Tendenzialmente Quello che stiamo vedendo noi Sì Anche perché l'idea È che poi Venga trasmesso a cascata Proprio con degli interventi Anche che noi progettiamo Con i ragazzi Nei loro istituti O negli istituti inferiori Tipo le scuole medie In cui i ragazzi Vanno a parlare E a diffondere un po' L'esperienza che hanno fatto E le informazioni Che hanno acquisito Ai loro pari Non come operatori sostituti Ma come dei ragazzi Di pari livello Che hanno fatto Un'esperienza di riflessione E di crescita Poi alla fine Ecco in alcuni paesi Soprattutto in nord Europa Ci sono delle campagne Di sensibilizzazione Che un po' si legano A questo aspetto Di peer education Cioè laddove I ragazzi Hanno una maggiore consapevolezza Sul problema delle droghe Possono aiutare A salvare Delle vite Forse possiamo vedere Anche delle immagini Vi trova d'accordo Questo Su dottoressa Cellaschi Assolutamente sì Noi anche Nella popolazione Dei pazienti Contiamo molto Su questa cosa Cioè I ragazzi Diciamo I pazienti Vanno in contesti di vita Che diciamo Sono proibiti O comunque evitati Dalla popolazione generale Sto pensando Ai vicoli di Genova Per esempio Di notte Alle 3 di notte In alcuni vicoli Trovi solo alcune persone Ebbene Avere qualcuno lì Che Se tu vai in overdose Ti faccia Un'iniezione di naloxone E che questo farmaco Che in America Viene distribuito gratuitamente Alle persone Che dovrebbe arrivare Anche in Italia Questo è fondamentale Ecco qui vediamo Proprio una di queste Grafiche che dicevamo No Qui dice John non è morto Per un overdose di eroina Perché I suoi amici Avevano appunto Naloxone Esatto Che poi è una cosa Brevissima Perché è una cosa Che si fa sotto cute Sono siringhe Come autolimitantisi Quindi sono assolutamente E speriamo che arrivi Anche da noi Insomma Siamo molto a favore È una sorta di peer education Dei pazienti tra di loro Ma effettivamente Nell'interno dei nostri servizi Se si vuole lavorare Con i pazienti Spesso si utilizza il gruppo Perché se hai comunque L'alleanza Del gruppo Riesci a Cambiare Insomma la mentalità Vista la collaborazione Sigismondo Le chiedo appunto Se questi aspetti Stanno funzionando Come vanno a toccare Appunto la sensibilità Dei ragazzi L'intervento di peer education Intanto è un intervento Che già Agisce su un numero Anche consistente Di ragazzi Che partecipano Perché In questo ciclo Triennale A cui si riferiva Il torsacco Vengono coinvolti Tra i 50 E i 60 ragazzi Quindi questo Ci dà la possibilità Di Come dire Tra virgolette Inserire Nei contesti scolastici Ragazzi Che Non sono ovviamente Esperti Ma hanno condotto Un'esperienza Che permette loro Di sapere qualcosa in più E quindi di poter Trasmettere Testimoniare Quest'esperienza Dove hanno Rafforzato La conoscenza Una conoscenza Corretta Di alcuni Processi Di alcuni meccanismi Di informazioni Che sono Non appartengono Al mondo Delle fake Ma al mondo Diciamo Delle informazioni Corrette E quindi Di poterle Trasmettere Avendole anche Elaborate criticamente Questo penso Che sia un punto Di forza Di questo progetto Che stiamo conducendo Ormai da 5 anni In collaborazione Tra Centro Giovani Chiavari E SERT E che Secondo me Sta producendo Dei risultati Significativi Ecco Dottor Capur Lei prima citava Le famiglie Dicendo che Tutto sommato L'aspetto positivo È che c'è un tessuto Di famiglie Attente Perlomeno Che ci può fare Qualche esempio Cosa emerge Noi Stiamo conducendo Delle attività Che ovviamente Ci portano A sentire Gli acquirenti Che sono Testimoni Di un reato Quando parliamo Di minori Ovviamente Chiamiamo anche I familiari Ed è un momento Di presa Ad atto Di una situazione Vediamo molti Genitori Da un lato Sorpresi E Peraltro Anche poi Ringraziare Però gli operatori Di aver dato Un'occasione Di riflessione Con il proprio Figlio O figlia Purtroppo Ci sono Ma fortunatamente Sono casi Più rari Genitori In assoluta Difficoltà Nella gestione Del Figlio Del quale Non hanno Perso Completamente La gestione Ci sono alcuni Casi Alcuni Sono finiti Passato in modo Tragico Ma Attualmente Ancora presenti Nelle nostre famiglie Di Difficoltà Di Riprendere Il filo Con i propri Figli Mentre invece In molti casi A volte L'intervento Repressivo Che è la medicina Che somministriamo Noi È l'occasione Di una presa Ad atto Tra figlio E genitori Che può dare Il là A una nuova Situazione Pur in un momento Molto Può salvare Può essere L'occasione Che il genitore Ma Possibile Che Anche tu Me l'hai fatta Non me ne sono Accordo E lì nasce Fortunatamente Esce Un dialogo Esce in chiaro Un dialogo Con il genitore Deve uscire In quel momento Un dialogo Che invece C'era fatto Con il compagno Di classe Con il compagno Di giochi Poi vediamo Che molte Di queste droghe Sono utilizzate Non nel silenzio Nell'angolo buio Mandate in sottofondo Le immagini Dei vicoli Di Genova Ormai L'uso Della droga Prevalentemente In certe fasce È un uso sociale Quindi È un uso Di compagnia Conviviale L'ultima operazione Che abbiamo fatto È a Luna Park Ma non è Perché Luna Park È un luogo Di perdizione Ma è un luogo Di aggregazione sociale Come possono essere Tanti altri Torno sul tema Delle famiglie Don Federico Perché Accade questa Mancanza di conoscenza In un certo senso Dei figli Quasi che appunto Come diceva Dottor Capuro Spesso poi si cade Un po' dalle nuvole Nel passato però Come dire Le nostre generazioni Hanno avuto genitori Che sapevano anche Dettare delle regole Questo sembra Essersi un po' perso Ma No In teoria Ci sono regole Ci sono Patti Ci sono Tanti Tanti giochi Giochi Nel senso di ruolo Nel senso che Molte famiglie Giocano a far fare L'adulto Al ragazzo No Invece Veramente Quello che diceva Prima Lo psicologo Lo condivido In pieno Cioè L'adulto È chiamato Nell'adolescenza A esserci Ma stando di lato No E questo vuol dire Saper restituire Al ragazzo Il proprio posto Il proprio posto Vuol dire Io capisco Con la tua adolescenza Che stai dicendomi Delle cose Io capisco Che tu vuoi Prendere in mano La tua vita Io capisco Che vuoi sfidarmi No Ma io non sto Dentro il tuo gioco Io Gioco Nella squadra Dei grandi E questo Anche capacità Che appunto Tante volte L'intervento Dei forze D'ordine Riporta in luce La capacità Di far squadra Tra adulti In un contesto Io qua Condivido Quello che diceva Forvio prima In cui Gli adulti A volte Danno dei messaggi Un po' Ammiccanti Perché i primi Che a volte Dicono Che in fondo Non fa niente In fondo Non succede niente Sapessi quanto Ne ho fatte io Alla tua età No? E sono l'adulto È l'adulto Cioè E questo Non funziona Ma qui c'è un cortocircuito Dove L'adulto Secondo me La regola Che dà l'adulto Non è più efficace Perché non è accompagnata Da due fattori Il primo Il primo fattore È L'autorevolezza Dell'adulto Ma il secondo Fattore È che l'adulto È solo È che la regola Che dito io Non è la regola Che trovi in casa Del tuo amico Non è la regola Che trovi là dentro Non è la regola Che trovi là E quindi È chiaro Che qui È come lottare Contro i mulini a vento Cioè È come se Ci fosse bisogno Di tornare a far rete Perché poi Secondo me È giusto Anche dare ai telespettatori Qualche speranza Tornare a far rete E tornare A essere autorevoli Anzitutto Con i nostri silenzi E con la nostra presenza Più che con le nostre parole E con i nostri provvedimenti Certo Ecco Sul fatto Fa male Non fa male Eccetera Dottoressa Arcellaschi Il percorso di recupero Fa sempre bene Se ne esce A quale costo Allora Il percorso Innanzitutto Di quando sono nati i cert Negli anni 90 Si pensava che la problematica Della droga Fosse una problematica Passeggera In realtà Sempre più noi vediamo Che è un problema Cronico recidivante Cioè Molto spesso Si manifesta Per lungo tempo Oppure per episodi E quindi Non è così semplice Affrontare la dipendenza Uscendo Quello che mi metteva Fuori dalla società Mi portava Un mondo Irreale Per quanti anni Sei rimasto dentro L'ambiente droga Per 30 anni Sono stato dentro La droga io Che cosa ha comportato? Mi ha devastato la vita Perché mi ha comportato Tantissimi anni di carcere Perché finivi in carcere? Perché comentevo dei reati Facendo delle rapine Per acquistare la droga Perché per procurarti la droga Tu fai di tutto Insomma C'è una coscienza tamponata Non provi sentimenti Non provi niente Lo scopo che vuoi E che vuoi acquistare la droga E se sei pronto a fare di tutto Fai di tutto per acquistare la droga Quando in carcere mi drogavo Poi sono uscito Dopo 11 anni dal carcere E stavo in affidamento E ho iniziato un'altra volta A drogarmi E ho iniziato un'altra volta A drogarmi Senza mai smettere Cocaine, rovine Eccetera 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 Puntavo anche sulle cose materiali Io Il vestito I Rolex sul braccio La cattolina d'oro Queste cose qua Alla fine mi ha portato L'autodistruzione Non pensavo più niente Pensavo soltanto a drogarmi E poi basta La mia vita è stata devastata Dalla droga Però poi hai fatto un percorso Di riabilitazione Nel 2017 mi è arrestato Mi ha restrappato Il carcere Due palazzi Ho visto che ci stava un padiglione Si chiama ICAT Cioè sarebbe una pre-comunità E lo stare in comunità ti ha aiutato? Entrando in comunità Io non credevo Che la comunità Mi potesse cambiare Non credevo E mi ho fatto 4-5 mesi in comunità Che la verità Per i fatti miei Ci stava un qualcosa Un bere qualcosa Me lo prendevo Perché non credevo alla comunità Non credevo a niente Mi sono solo entrato in comunità Per scappare dal carcere La verità Poi dopo Mi sono dato un'opportunità Perché ho visto che la verità La comunità Mi hanno steso Tutti mi stendendo una mano Cosa che io Ho sempre cercato Nella mia vita Ma il posto dove abitava Non era considerato Questa cosa qua Ho visto Sto vedendo cose nuove Sto vedendo nuove orizzonti E mi ha portato a cambiare Mi ha portato a cambiare Anche No soprattutto All'elordia della droga Proprio nel pensare di vivere Nella vita Perché la comunità Non serve soltanto per la droga La comunità serve proprio Un insegnamento di vita Che messaggio daresti A un ragazzo Che in questi giorni Sentiamo anche le notizie di cronaca Giovanissimi che iniziano Nel percorso della droga Che facci un passo indietro Perché la droga Devasta Devasta la persona Che non se ne rendono conto Quanto Quanto Stanno dentro E quanto Quanti problemi Ti può compromettere Ti può causare la droga Perché mi sembra Che è tutto bello Ma che è tutto È una cosa Di fantascienza Non è una cosa È tutta fantascienza Tutto quello che pensi È tutta una cosa È irreale È un mondo irreale Quando poi Prendi coscienza E fai i conti Con la realtà Ti rendi conto Che hai preso un sacco di anni Che tu puoi sfruttare In qualcosa di migliore Perché la vita È semplice È bella Va vissuta comunque Secondo te però Che cosa porta All'occasione Tu dicevi di essere nato In un quartiere un po' difficile Ma è il quartiere difficile O alla fine Come dire Uno ci può arrivare Anche per altri motivi All'interno Di questo percorso Non si tratta Soltanto di quartiere difficile Perché ci stanno anche Le persone Che stanno In quartiere Di benestanti Però Che nascono Di problemi Di lato Di dipendenza Perché magari C'hanno i problemi Che sono più deboli E si aggrappano A questa cosa qua Detto droga Che ti tampona E tu non senti più Il dolore dentro di te Perché la droga Questo ti fa Ti tampona Praticamente Il cervello Fantastica Da sé E dentro Tu stai temperato Non ti fa male più niente Può essere anche Un problema sociale Tra familiari Che non vanno bene D'accordi Un dolore Magari causato Da padre Da fratello Dall'olzio Dagli amici Ragazzi Che non sanno affrontare La società È intorno alla droga E un'ultima cosa Che cosa diresti Anche a un genitore Che vede Che c'è questo problema In casa con un figlio Cioè di stargli subito addosso Io direi subito Se il figlio Ha un problema Che si rivolge al genitore È il genitore Che sa capire Il problema del figlio Però deve essere forte Nell'agire con il figlio O guardingo O aspettare un attimo O invece subito No Deve agire subito Deve agire subito Perché la droga Ti avvolge subito E non ti fa capire più niente Rieccoci in studio Le cose in maniera Può essere troppo vicino Stare un po' Certo magari Dove può passare Dove può passare Anche un cambiamento Eventualmente Ma la speranza Intanto passa Attraverso Una rappresentazione Di questo fenomeno Che riguarda La realtà Dei fatti Cioè Nel senso che Tutti questi aspetti Lui questa sera Chiaramente Abbiamo analizzato Un problema Abbiamo dato numeri Abbiamo dato Fatto una fotografia Che va letta criticamente Perché il problema Spesso È quando La rappresentazione Di un fenomeno Diciamo Deborda E diventa Descrittiva Di una realtà Quindi di questo Dobbiamo essere consapevoli Quindi diciamo È comunque Una problematica Su cui va posta Attenzione Però è anche Una problematica Che non fotografa La condizione Della maggioranza Dei giovani O anche delle persone Che possono essere Dedite A questo tipo Di abitudini Noi viviamo Peraltro Un territorio E questo Anche va sottolineato Che è ricco Di risorse Cioè Quindi è un territorio Voglio dire Che può Sconfiggere Se c'è Una disponibilità Anche le condizioni Di emarginazione O di solitudine Perché Il grande Penso Nemico È quello Poi dell'isolamento Del chiudersi Dentro le situazioni Del perdere La dimensione Del confronto Della richiesta Di aiuto Della ricerca Di aiuto Presso quella rete Che è una rete Fatta di servizi Di soggetti Che possono prestare Ascolto ai problemi E possono alimentare Una dimensione Di confronto Che è fondamentale Per uscire Dall'isolamento Dalla paura E a volte Anche da una percezione Magari Distorta Di un problema Che poi Può anche essere Affrontato E risolto Questo penso Che sia importante Richiamarlo Per non cadere Nell'errore Di una rappresentazione Distorta Di un problema Poi c'è anche L'aspetto positivo Della prevenzione Anche da parte Della presenza Di forze dell'ordine Allora Dottor Capuro Voi quanto siete presenti Sul territorio Che controlli fate Non so Anche voi Incontrate i ragazzi Cosa possiamo dire Noi abbiamo ovviamente L'impatto Repressivo Va detto Cerchiamo di spendere Negli ultimi anni Abbiamo cercato Di spendere Più energie Nell'attività Di contrasto Togliere roba Dal territorio Mettere Un po' il sale Sulla coda Su certi personaggi Che stavano Incominciando A debordare Tanto Devo dire Che nella Nella mia esperienza Lavorativa Però Ho trovato Anche una cosa Positiva Di questo Territorio Ci sono Degli anticorpi Che da altre parti Non ho trovato E si sono persi Questo deve essere Un segnale Non voglio dire Di speranza Ma di Incoraggiamento Su una situazione Che Questo territorio È ricco Non solo di bellezze Di cose Ma anche È ricco socialmente Bisogna grapparsi Anche a questo Ci sono due messaggi Che arrivano da casa Li vediamo velocemente Il primo In alcuni stati Hanno legalizzato L'uso ricreativo Della cannabis Potrebbe essere Una soluzione Per rendere La sostanza Meno affascinante Ecco lo vediamo Tra virgolette Agli adolescenti Che la provano Per il gusto Della ribellione So chi vuole rispondere Non gli esperti Potrebbe essere Cellaschi Eh Questa è una domanda Difficile Non è Quindi Ed è forse difficile Soprattutto Siamo tutti gli spettatori Attenti Sì No no Rispondere come clinico Perché vedendo noi Gli aspetti negativi Della cannabis Purtroppo non possiamo Rispondere in senso positivo Noi vediamo le psicosi Vediamo i ragazzini Che arrivano devastati Come diceva Siamo di parte Ecco non siamo forse La Io non mi ritengo La persona più qualificata Per poter rispondere A questo tipo di domande Un'altra domanda Per gli operatori del Sart Qual è la modalità più diffusa Con cui le persone Entrano in contatto Con la droga Conoscenti che ne fanno uso Bisogno di una sostanza Che curi Un problema che hanno Un pochino L'abbiamo visto Non so Tutto il sacco Sì Che in un certo senso Un po' una commissione Delle due cose Nel senso che Quello che è Lo scopo magari Ricreativo Fatto anche In una maniera di gruppo Come spesso accade Soprattutto nel target Adolescenziale Ma in realtà Poi è legato A questioni personali Appunto Di mancanza Di difficoltà Spesso di tipo psicologico Comunque al di là Di sismondo Sì Volevo dire una cosa Relativamente Alla questione Legalizzare Non legalizzare Perché è un tema Chiaramente Che Però Io Non possiamo rivedere Anche la domanda No no Ma io volevo solo Sottolineare Che molte volte Sì dipendenti Da abitudini Che sono perfettamente Legali Quindi il problema Secondo me Porlo così È perfettamente Legittimo È chiaro Che per Verificare Quali potrebbero essere Gli effetti Di un'eventuale Legalizzazione Ne occorrerebbe fare Delle sperimentazioni Che durino anni E che ci permettano Di raccogliere Eventualmente Risultati No Voglio dire Come impostazione Metodologica Però dico Che la questione Del legalizzare Può diventare Un po' Un falso problema Perché molte volte Noi siamo dipendenti Da Aspetti Che sono perfettamente Legali Perché È chiaro Che io uso Un computer È legale Se poi ho la necessità Nella mia vita Di utilizzarlo 15 ore al giorno Perché Ho sviluppato Nei confronti Di questo strumento Tecnologico E di ciò Che rappresenta Una dipendenza E potremmo Allora anche lì Dire che Occorre Penalizzare L'uso del computer Quindi sono aspetti Che chiaramente Vanno affrontati Diciamo In una maniera Legittimo A porsi il problema Per affrontare In una maniera Poi realistica Di fatto Concluderei Con una Così Chiedendo una parola Anche di senso A Don Federico Pichetto Prima però Vi faccio ascoltare Un'intervista A Monsignor Anselmi Che è Il vicario Il vesco ausiliare Di Genova Perché oltre All'aspetto Di prevenzione Anche di cura sanitaria Anche l'aspetto Di cura della persona Che come dice Monsignor Anselmi De esserci A 360 gradi Un accompagnamento Che duri Anche nel tempo Allora ascoltiamo Le sue parole Così poi concludiamo Dove poter trovare Il bene Dire una parola Di bene su questo La cosa che Al di là Di tutte Gli interventi Diciamo Terapeutici Curativi Su questa questione La questione Della prevenzione Sia come tutti dicono Una cosa importantissima Perché Spesso si finisce In questi mondi Anche tanti giovani Anche italiani Italiani e stranieri Per la noia Per la noia Per il vuoto Della loro vita Perché se uno Ha delle cose Migliori da fare Io sono convinto Sto pensando Non che a me Molti miei amici Così compagni Coetanei Poi sono Come mai Che avevano La mia stessa Cultura La mia stessa Estrazione sociale Sono tra virgolette Finiti male Io no Forse perché Ho avuto la fortuna Che qualcuno Mi proponesse qualcosa Di più interessante Da fare Per cui Nascono anche tante iniziative Diciamo anche Non troppo saltuarie Ecco perché poi La persona Bisogna anche di continuità Cioè la vita Non è che si può riempire Soltanto uno Due tre domeniche All'anno O una settimana estiva Per cui Alcuni progetti Riguardano soprattutto Il lavoro Per i giovani E per gli stranieri Perché Giovani e stranieri Disoccupati Spesso Vengono presi Così dalle persone Dai trafficanti Per vendere Banalmente Per cui È un modo Per guadagnare dei soldi E per sopravvivere Facci qualche esempio Di qualche lavoretto Che sono stati proposti Abbiamo Costruito Una squadra Di 12 persone Per lo più giovani Italiani e stranieri Che quotidianamente Puliscono Tengono pulito Il centro storico Con una piccola casacca Si espongono anche Anche a fare un lavoro Umile Si può dire Che però È comunque un lavoro Che porta loro Pochi soldi Ma guadagnati Guadagnati Diciamo Bene E poi questo Servizio Che poi è al servizio Della comunità Diventa Un qualcosa Di molto apprezzato Dalle persone Per cui le persone Li ringraziano E questi Sentono gratificati E in tempi più recenti Così la comunità parrocchiale Attraverso soprattutto Dei laici Ma con l'incoraggiamento Di tutti Ha aperto così Anche dei negozi In cui vengono accolte Giovani E meno giovani Con Un ristorantino Una trattoria E poi una tigelleria In cui vengono accolte Anche persone Che sono in difficoltà Il recupero È sempre possibile Secondo lei O chi finisce in questo giro Non esce più No Io sono abbastanza Speranzoso Sono abbastanza Speranzoso Però bisogna Così Diciamo La cura della persona Deve essere veramente Una cura A 360 gradi Perché la persona Ha bisogno di continuità Ha bisogno di sentirsi Amata Sempre L'aspetto religioso Per molte persone Ha una grande importanza Ha una grande importanza Cioè l'idea Della disperazione Di potersi affidare Sì A delle persone concrete Ci vogliono Ci mancherebbe altre Ma All'amore di Dio Non è una cosa da poco Non è una cosa da poco Tante persone Si riavvicinano Molte di più Di quelle che noi pensiamo Si riavvicinano Alla fede E questo Gli fa un gran bene Quindi fare comunità Cura della persona Allora le chiedo Una riflessione finale Don Federico Picchietto Anche sulla scia Di queste parole Come si non è sempre Ma Sì Noi abbiamo bisogno Di comunità Noi abbiamo bisogno Di reti Che diventino relazioni Di relazioni Che diventino Luoghi E di luoghi Dove in qualche modo Quello che viene proposto Non è semplicemente Un impegno O un dovere Ma quello che viene proposto È una vita Abbiamo proprio bisogno Di ritornare A proporre ai nostri ragazzi Una vita a 360 gradi Una proposta di vita E credo che su questo Come comunità cristiana Abbiamo tanto da dire E tanto da fare E tanto spazio In cui reimpegnarci E uscire Dai nostri angoli Per poter in qualche modo Ritornare In mezzo alle strade Proporre ai ragazzi Una vita buona Una vita bella Una vita vera Concludo con quello Che è un proverbio Appunto Prima si citava Il proverbio In antico Egitto È un proverbio cinese Che dice che La forza di una parola È data Dallo spazio Che c'è tra una lettera E l'altra E secondo me Dobbiamo imparare A costruire Degli spazi Dove le nostre parole Riprendono forza Bene Grazie Grazie per le vostre parole Per le vostre riflessioni Quindi ringrazio I miei ospiti Di questa sera Andrea Sacco Monica Arcellaschi Del CERT Fulvio di Sigismondo Don Federico Pichetto Il vicequestore Luca Capurro Grazie ancora Noi con il Direttamente su Ci ritroviamo lunedì prossimo Grazie per l'attenzione Buon proseguimento di serata Grazie a tutti